Ed eccoci in diretta, ben trovati telespettatori per questo nuovo appuntamento di buongiorno dottore, allora con l'ausilio della regia andiamo subito a vedere i numeri, anzi è prontissima la nostra regia, 011 06 00774 il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp, dunque potete così rivolgere la vostra questione, quello che insomma vi lascia dubbiosi, all'ospite in studio che andiamo subito a presentare, la dottoressa, la medico-dontoriatra, dottoressa Giorgia Carpegna, ben trovata. Grazie, grazie per l'invito, buongiorno a tutti quanti, sono qua oggi appunto per risolvere eventuali dubbi o domande che i nostri telespettatori possono avere riguardo a quello che sia il mondo dell'estetica del sorriso e il mondo della salute dentale. Bene, una new entry perché mi pare che sia la prima volta che viene nei nostri studi Assolutamente, oggi è la prima volta Per questa nostra prasmissione. Allora, dunque per tutti i nostri telespettatori la possibilità di contattare attraverso i numeri che vedete in sovraimpressione, dicevamo estetica dentale perché nel corso dei nostri precedenti appuntamenti anche con altri professionisti abbiamo parlato del problema, del dolore piuttosto che della caria, ma c'è anche un capitolo molto importante che è quello dell'estetica. Assolutamente, soprattutto al giorno d'oggi in cui i social fanno da padroni in quello che è il mondo della comunicazione e il sorriso e le foto sono la prima cosa che arrivano in in primo piano e quindi i pazienti ricercano di avere i denti allineati, perfettamente bianchi e con la forma di tutti quanti, tutti simili, quindi gli entespazzi tra i denti, quelli chiamati diastemi e di conseguenza vengono in studio cercando ovviamente risposte alle loro problemi e una soluzione che possiamo ottenere sia tramite delle fotografie che vengono solitamente effettuate, delle previsualizzazioni perché fortunatamente le tecniche oggi sono evolute negli anni e quindi ci permette anche di poter far vedere fisicamente al paziente quello che potrebbe essere il risultato prima di iniziarlo a fare e prima di lavorare effettivamente in bocca, quindi tutto assolutamente in dolore e possibile da provare. Mi chiedevo la tipologia del paziente che viene nel suo, come negli studi di tanti altri professionisti, cosa va a ricercare? Un sorriso smagliante? La perfezione nell'eliminare i diastemi? Come avviene? Cosa le chiedono prevalentemente? Allora, generalmente arrivano dicendo che il paziente solitamente dice che è tanti anni che non sorrido più, voglio tornare a sorridere, voglio il sorriso hollywoodiano, bianco, perfetto, allineato e quindi va a richiedere di poter effettivamente raggiungere quello che è l'obiettivo. A volte arrivano anche con delle fotografie vere e proprie da proporre, sì. Quindi dei campioni. Sì, di esempio, vorrei un sorriso simile così. O ancora arrivano con delle loro vecchie fotografie dicendo una volta io avevo i denti in questo modo, si sono spostati, non sono più così. È interessante questa cosa del una volta. Una volta, sì. Adesso magari ritorniamo, intanto abbiamo un messaggio, allora andiamo a leggere cosa ci scrivono da casa. Buongiorno, in caso di frattura verticale di dente devitalizzato, fino a che livello di frattura è possibile salvare il dente? Sempre in un dente devitalizzato quando va inserito un perno di rinforzo? Grazie, Marco da Torino. Allora, in caso di frattura di un dente devitalizzato, in realtà è necessario valutare il livello della frattura tramite delle radiografie e tramite una visita fisica in studio, in quanto tendenzialmente un dente devitalizzato in cui si è fratturata una radice non sempre è recuperabile. Per quello che invece riguarda l'inserzione di un perno all'interno di un dente devitalizzato, quella è una scelta clinica che viene effettuata dal dentista sul quanto dente rimane per la ricostruzione. Però no, non è sempre obbligatorio inserirlo. Va bene, allora, dicevamo una volta magari si aveva un sorriso più smagliante. Ecco, perché i denti, come tutte le altre cose, insomma, come il nostro organismo, si usura, va soggetto all'invecchiamento? Va soggetto all'invecchiamento e per cui cambia il colore, quindi generalmente andando avanti negli anni i denti diventano un pochettino più grigi o più gialli. Invece, per quanto riguarda l'usura, la malattia del ventunesimo secolo dal punto di vista dentale è il bruxismo, perché viviamo comunque in tempi sempre più frenetici e siamo più stressati e di conseguenza ci sono delle usure, degli stress sui denti che una volta erano meno presenti e quindi i denti si consumano sia in altezza che proprio in volume e questi possono essere ricostruiti successivamente con delle faccette piuttosto che con delle ricostruzioni di tutta la superficie del dente. Stava venendo una curiosità prima sulla devitalizzazione. La devitalizzazione porta a un, non dico annerimento, ma sicuramente a una variazione di colore di un dente? A volte sì, a volte sì. Non sempre, dipende come viene eseguita, però tendenzialmente può dare un ingregimento del dente e quindi richiedere poi una ricostruzione, una ricopertura della corona estetica, della parte che si è visibile fuori dalla gengiva con una corona per cambiare il colore e renderlo simile agli altri, assolutamente. Allora, dottoressa Carpegna, mi pare che ci sia una telefonata, andiamo a cogliere dunque il nostro telespettatore da casa. Pronto? Pronto? Non eravamo qua. Lui è scivolata la telespettatrice, mi sembrava, è caduta, non lo so, comunque è caduta anche la linea, peraltro, per cui siamo a posto. Richiamerà. E continuiamo con la nostra dottoressa, continuiamo con la nostra conversazione. Senta, dicevamo, denti che perdono il loro colore, dunque cosa si può fare in questo caso? Allora, si può prima di tutto iniziare eventualmente a valutare l'entità della discromia, quindi la perdita di colore, si possono effettuare degli sbiancamenti che sono totalmente sicuri, non indeboliscono il dente, non danno sensibilità, ma vanno ad agire andando a rimuovere tutte quelle sostanze che si sono depositate all'interno del dente nel tempo, ridando un po' quella che è la luminosità e la lucentezza del dente e che possono essere fatti in studio. Altrimenti, nei casi in cui lo sbiancamento non sia sufficiente o non sia possibile, possono essere rivestiti con delle faccette o delle ricostruzioni in composito. Allora, intanto abbiamo una telefonata, proviamo a prendere il nostro telespettatore a casa. Pronto? Pronto? Io ho paura che sia la stessa di prima, ma a questo mi pare che ci sia un eco, forse è in una zona, lo diciamo alla nostra telespettatrice nel caso in cui ci stia seguendo da casa, che mi pare che ci sia un eco, quindi o cambia la zona, si sposta un attimo di distanza, non so, comunque. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Allora, diceva faccette, ecco, si usano sempre di più le faccette, mi chiedevo quale grado di praticità e di resistenza possono avere rispetto magari allo sbiancamento classico. Ma sono due trattamenti completamente diversi, assolutamente, perché lo sbiancamento può essere effettuato anche su un dente sano che non ha bisogno di cambiare forma o che è quindi per un trattamento puramente cosmetico. Invece le faccette hanno anche un ruolo, oltre che estetico, anche riabilitativo, perché magari i denti che non hanno la lunghezza giusta. Ed è viene applicato sopra il dente su cui si può andare a lavorare, generalmente non si lavora mai su un dente singolo, ma almeno su coppie o più denti. viene applicato a un rivestimento in ceramica che è sottile quanto un'unghia, quindi assolutamente resistente e dal punto di vista estetico invisibile. Ah, ecco, stiamo vedendo, la regia ci propone. Intanto abbiamo una telefonata, facciamoci il segno della croce, speriamo bene. Pronto? C'è qualche buon tempone, credo, oggi. Allora, va bene. Beh, Beato, c'è gente che si diverte, meno male. In questi periodi di difficoltà c'è anche gente. Allora, 011 06 00774, per chi volesse seriamente chiamarci e dunque dialogare con noi all'interno di questa nostra trasmissione, 348 80 40 254 per sms e whatsapp. Dunque, dicevamo delle faccette. Diceva che si lavorava a coppio comunque a un gruppo di denti, questo perché? Perché è troppo evidente forse la differenza di un solo dente rispetto agli altri? Generalmente sì, ma non tanto è evidente la differenza tra un dente e l'altro, ma perché generalmente il problema non è mai sul singolo elemento, quando si vuole andare a cambiare la dimensione del dente piuttosto che la lunghezza o il volume. Quindi si va a fare un lavoro su più denti per mantenere anche un'armonia del sorriso, perché esistono delle regole ben precise che dettano quelle che sono le forme, le dimensioni che i nostri denti devono avere e che le regole ovviamente sono tutte uguali, ma i volumi e le forme cambiano per il viso di ognuno di noi e devono essere in rapporto armonico con il naso, le labbra e la lunghezza del viso stessa, quindi per quello. Ecco qui la regia ci fa vedere un confronto tra due sorrisi, magari forse il primo e dopo, io non so se può essere così. Probabilmente un primo e un dopo. Quindi insomma anche per persone che hanno una dentatura, un sorriso un po' problematico come questa foto, possono riavere un bel sorriso? Sì, non sono solo faccette ovviamente in quella situazione lì, però è un caso molto probabilmente di bruxismo, quello che abbiamo visto precedentemente in cui il paziente è andato a consumare i margini dei propri denti. Sono soluzioni in cui si può ovviamente lavorare, si possono ottenere degli ottimi risultati e è un lavoro su cui si va a lavorare su tutta la bocca, in quel caso lì, non solo su due o quattro denti come possiamo vedere nell'immagine che invece hanno mandato in questo momento. Mi chiedevo il caso, si fa una panoramica prima di affrontare anche una situazione di quelle che abbiamo visto? Allora, gli esami che vengono generalmente fatti, le lastre si fanno panoramiche, si fanno tutte quante le lastre assolutamente perché bisogna sempre prima di tutto partire dallo stato di salute della bocca. Dopodiché vengono effettuate delle fotografie al sorriso, solo alla parte dentale come di tutto quanto il viso e delle scansioni con una telecamera, uno scanner digitale, anche in questo caso sia dei denti che di tutto il volto in tre dimensioni. in questo modo si riescono a valutare fisicamente e poi digitalmente i volumi necessari, le forme, le dimensioni e andare a proporre al paziente quello che è la soluzione migliore, personalizzata, quasi custom made per lui. Allora, abbiamo una telefonata? Pronto! Allora, non è stato lei, dunque io sto chiamandoli. Pronto! Allora, siamo sfortunati oggi, ma dottoressa non riusciamo proprio a trovare una conversazione insomma degna di questo nome. Allora, 011 0600 774, il numero per le chiamate, 348 80 42 54 per sms e whatsapp. diceva prima una panoramica per controllare lo stato di salute della bocca, perché non ci sono solo i denti, bisogna capire cosa... Ma che altro prima di andare a fare un lavoro che è prettamente estetico è bene andare a valutare che le fondamenta siano sane, perché se no ci andiamo ad appoggiare ovviamente su una base non solida e quindi un lavoro che potrebbe poi avere una cattiva prognosi nel tempo e non poter essere mantenuto. Quindi ovviamente la salute della bocca e dei denti, delle gengive e tutto quanto è prioritaria su tutto il resto della prima cosa da cui si parte sempre. Mi chiedevo, in questi tempi dove si va sempre di fretta, insomma non c'è mai tantissimo tempo a disposizione. Ecco, un lavoro ben fatto in termini di tempo, quanto può durare? Allora, se partendo dal proposito di una bocca sana, dover rifare indicativamente 4-6 faccette, quindi solo i denti superiori, si possono impiegare 3 appuntamenti, massimo 4, in cui il consprensivo del primo in cui viene fatta la visita, tutte le fotografie e le scansioni, un secondo appuntamento in cui viene proposto al paziente il progetto e l'idea del nuovo sorriso e gli viene fatta vedere la previsualizzazione sia in bocca direttamente a lui che graficamente e poi gli appuntamenti successivi sono uno in cui si inizia effettivamente a fare la preparazione e quindi a modellare i denti in vista della faccetta e quello successivo in cui vengono applicate. Allora, intanto sentiamo se c'è qualcuno in linea. Pronto? 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 Niente, io ricordo sempre che i numeri sono registrati, quindi fate poco i furbi perché insomma se ci prendono i 5 minuti possiamo anche girare il tutto alle autorità giudiziarie per quanto riguarda insomma i responsabili di queste situazioni. Allora, dunque, ho perso un filo del discorso in tutto questo però il senso era, dunque, ecco qua la regia fa un confronto abbastanza impietoso tra il primo e dopo. Eh beh, questo ovviamente nel mondo, quello che dicevo nel mondo degli spettacoli e nei social. No, conoscendolo personalmente devo dire che non è Photoshop ma insomma può essere dottoressa Carpegna che insomma abbia provveduto a qualche ritocchino. Beh, sicuramente perché comunque già solo gli spazi che c'erano sui denti davanti sono stati riempiti quindi c'è stato la mano d'opera di un dentista sicuramente all'interno del sorriso. Uno dice che bell'uomo, che bel giocatore con questo sorrisone in realtà insomma. Ma nel mondo dello spettacolo è la quotidianità comunque giustamente bisogna essere sempre perfetti sia sotto riflettori quotidianamente quindi nulla può sfuggire. Ecco, mi chiedevo prima, diceva, di clienti che portano delle foto, dei sorrisi, allora mi chiedevo se le capitano, è capitato insomma dall'alto della sua esperienza di persone che arrivano magari con dei sorrisi così e beh, dice vorrei questo sorriso, poi magari loro sono insomma improponibili nell'attivazione di tutto ciò. Allora, no, improponibile non è mai improponibile nulla. Ovvio non si può replicare l'esatto sorriso specifico della persona perché, come dicevamo prima, quel sorriso è fatto sulla persona singola che ha un viso, dei denti, dimensioni diverse uno dall'altro. Quindi già solo tra me piuttosto che mia mamma, per quanto siamo parenti, non abbiamo lo stesso sorriso, non abbiamo la stessa dentatura, non potremmo avere lo stesso sorriso perché starebbe male esteticamente se io avessi il suo e lei avesse il mio. Quindi quello che generalmente chiedono, andando poi a parlare, quando arrivano con delle fotografie, non è mai il sorriso, voglio il dente di quella dimensione, di quella forma nella mia bocca ma è voglio i denti più bianchi, voglio i denti più dritti o voglio i denti tutti quanti uguali, voglio dei denti bei, voglio un bel sorriso, la soluzione poi finale è quella lì. Allora 011 06 00774, non so se c'è un messaggio o un telefono, c'è un messaggio. Allora buongiorno dottoressa Carpegna, per chi ha allergie ai farmaci che tipo di anestesia praticate? Ivan da Torino. Allora per quanto riguarda gli anestetici, ciò che principalmente dà allergia sono i conservanti, esistono delle anestetici senza conservanti che possono essere utilizzati, bisogna poi vedere a cosa è allergico il paziente perché di farmaci anestetici ce ne sono diversi quindi è sempre necessario arrivare su questi casi con dei test allergologici che la certifichino l'effettiva allergia. Se invece è allergico a farmaci come antibiotici e antiinfiammatori in quel caso può essere utilizzata una qualsiasi anestesia. Dunque ce n'è un altro, non neanche fatto in tempo a aprire bocca, subito è la regia. Prontamente allora il 348 80 40 254, buongiorno dottoressa Carpegna, l'uso degli sbiancanti che si comprano nei supermercati, sono efficaci Franco da Torino? Allora non efficace in realtà molto labile nel senso che generalmente sono o dei sistemi che vanno con dei coloranti come può essere per esempio dei dentifrici che contengono dei pigmenti blu all'interno che danno quindi solo un effetto ottico di dente più bianco oppure sono delle sostanze che vanno a rimuovere quella che è un pochino l'acqua dal dente, quindi un effetto assolutamente temporaneo e quindi il dente risulta più gessoso, più bianco e ci dà l'impressione che sia più chiaro. Però in realtà non sono dei trattamenti effettivamente utili. Bisogna sempre invece fare molta attenzione a quei prodotti con dei microgranuli, con i vari carica del carbone piuttosto che che vengono applicati e spazzolati sui denti perché invece in quel caso può essere creato un danno perché va ad abradere il dente, creare delle microporosità che poi può portare a più macchie o addirittura poi a un danno perché dove il dente è poroso si possono poi avvicinare i batteri e cariarlo, quindi assolutamente di quella attenzione. Si rischia di fare più danni che del bene, insomma. Assolutamente. Con il fai da te, diciamo. Sì. E va bene. Allora, invece mi chiedevo se, allora, quanto può durare un trattamento di sbiancamento dei denti? Mi spiego meglio. Immagino che una volta fatto il trattamento ci siano uno delle precauzioni, magari non stare lì a bere litri, litri di caffè, per esempio, giusto per dirne una, ma soprattutto, insomma, dopo un tot di mesi, mi dica lei, poi insomma, immagino che vada un po' a scemare questo effetto sbiancamento. Allora. Quindi uno che ci tiene particolarmente ad avere un sorriso bianco, ecco, cosa deve fare? Allora, ci sono diversi tipi di trattamento in realtà, ci sono dei trattamenti domiciliari con dei prodotti professionali che vengono fatti in studio con delle mascherine personalizzate e questi trattamenti vengono, la mascherina deve essere applicata tutte le notti per 6-7 ore, per 14 giorni e sono quelli che hanno, richiedono una precauzione un pochettino più lunghe, quindi fare attenzione per tutto questo periodo a non bere troppi caffè, soprattutto subito dopo la rimozione delle mascherine o fare attenzione comunque alle sostanze un pochettino più colorate. Questi trattamenti qua possono essere ripetuti una volta ogni due anni. Ad oggi ci sono poi dei trattamenti invece che possono essere fatti in studio, che sono ripetibili più spesso, che di nuovo cominciamo su un più effetto cosmetico perché il trattamento dura meno all'interno sulla poltrona, si parla di 10 minuti o mezz'oretta e in base al trattamento può essere ripetuto a distanza di 3 mesi o di 6 mesi, quindi per mantenere il sorriso sempre brillante. Ecco qui la regia, questa operazione, questo intervento diciamo, cos'è luce pulciata? No, è una luce che indurisce materiali compositi, quella che vediamo all'interno della fotografia, quindi probabilmente stavano facendo qualcosa di ortodontico, di mettere magari sull'apparecchio altro, però è una luce che va a indurire il materiale che viene usato per l'otturazione. Allora, senta dottoressa, al di là dei denti, cioè della parte diciamo, il bianco del nostro sorriso, per estetica intendete anche un intervento sulla parte gengivale, una correzione di qualche problema di gengive? Quello può essere fatto nel caso in cui le radici vengano scoperte o magari nei casi in cui i pazienti sorridendo mostrino, viene proprio chiamato sorriso gengivale, quindi vadano a mostrare le gengive più di quanto le famose regole auree che dicevamo prima prevedrebbero. Allora si vanno a eseguire, come vediamo nell'immagine, si vanno a rimodificare quelle che sono le curve intorno ai denti per dare l'impressione che il dente risulti più lungo, quindi senza averlo effettivamente allungato con del materiale, oppure si vanno a fare delle piccoli interventi nella zona più alta che vediamo nell'immagine tratteggiata per far sì che il labbro sia più basso e quindi sorridendo non venga più esposta la gengiva. Quindi, allora intanto abbiamo una telefonata e poi magari torniamo un attimo sull'immagine. Pronto? Pronto? Ah, parlo con lei. Sì, è in diretta. Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Franco da Collegno. Buongiorno Franco, faccia pure la sua domanda. Niente, io sono tutti i denti consumati, però c'è io ancora i denti. Vorrei mettere, diciamo, un apparecchietto con, non mobile, con due fissaggi, come si chiama? Parla di impianti probabilmente? No. Con due ganci? Con due perni. Ok, due impianti, sì. Cioè nel dente che ciò già vi metto due perni e questo apparecchietto va ad agganciarsi sopra. Tiene poi nel mangiare, fare tutte queste cose durante il giorno. Generalmente sì, è una tecnica che si utilizza. Se i denti del paziente sono consumati ma sono sani e ci sono solo pochi denti residui, allora si può effettuare un trattamento in cui vengono inserite come fossero delle palline sul dente, quindi la protesi viene agganciata come fossero dei pussoir e mantiene la stabilità della protesi, assolutamente. Ah, cioè, quindi posso mangiare, posso fare tutto quello che faccio normalmente con i denti, quando uno usa i denti. Sì, viene sopra messa una protesi che deve mettere e togliere, non è una protesi completamente fissa. Sì, no, 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 mettere e togliere. Ah, boom, ma ho detto. Per il prezzo non si può dire. E quello non posso, senza una visita è impossibile darle un'informazione del genere. Va bene. Volevo sapere soltanto se era valido come lavoro. È una tecnica che si utilizza, assolutamente, e ha una, permette una buona qualità di masticazione. Va bene, gentilissime. Ci mancherebbe, arrivederci. Siamo al nostro telespettatore Franco, da Collegno, per averci chiamato. Chiaramente, al di là del fatto che non sarebbe etico parlare di cifre in questa nostra trasmissione, che è di divulgazione e nient'altro, ma al di là di questo, immagino che uno non può neanche dire cifre così a caso, perché occorre una visita. Assolutamente, nel senso che comunque ogni situazione è singola, non esistono dei pacchetti standard come uno può scegliere, non so, il prezzo al supermercato o altro. Bisogna valutare la singola situazione, effettivamente il numero di denti su cui bisogna andare a lavorare, se c'è una bocca sana o non c'è una bocca sana, e quindi da lì si parte, però è un qualcosa di individuale. Allora, proseguiamo con le chiamate da casa, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Pronto? Azzeri il volume del televisore, perché... Ricordiamo due semplici regole, perché vedo molte persone che fanno difficoltà a prendere la linea, allora dovete azzerare il volume del televisore, parlate dal telefono, dalla cornetta del telefono, o dal vostro cellulare, dunque sia sentire che parlare attraverso soltanto il telefono. Dunque, c'era prima una immagine della regia, che era quella sui denti, sui seri di gengivale. Sono rimasto un po' interdetto, perché... Allora, niente, non ce la fanno... Niente immagine, c'è un'altra telefonata, sentiamo chi è con me. Pronto? Il seri di gengivale. Pronto? Pronto? Niente, siamo noi questi ancora, niente, non si palesa all'orizzonte. Allora, questa immagine qui, vediamo un attimino. Diceva praticamente di non allungare il dente, ma ridisegnare dove... Dove ci sono le righe continue. Dove le arcate. Esatto. Quindi, perché sotto c'è sempre il dente. Sì, perché comunque il dente ha una parte esterna che è la corona che è scoperta, e poi tutta quanta la radice che invece è sotto la gengiva e all'interno dell'osso. E quindi, in alcune situazioni, si può andare a eseguire un rimodellamento effettivo gengivale. Mi permetta la similitudine? Come le pellicine delle unghie, se uno le sposta un po' più su... Non, si va proprio in realtà a rimuovere quella zona. Ah, si rimuove proprio? Sì, sì, non si spinge solo, si va proprio a rimodellare, si va con dei laser, con dei visi, comunque sono dei trattamenti assolutamente fatti con l'anestesia locale, ma che non comportano nessuna sequela di dolore e sono assolutamente poco invasivi. Allora, sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Buongiorno, sono Antonio da Torino. Antonio, faccio pure la domanda. Buongiorno. Buongiorno, voglio chiedere alla dottoressa, se negli studi dentistici è prevista la presenza di dispositivi salvavita in caso di reazioni forti, allergiche, tipo iniezioni ad adrenalina, cortisone e cose del genere? Assolutamente sì, esiste un carrello dell'emergenza e obbligatorio, l'ASL lo prevede con tutti quelli che sono i farmaci salvavita, non soltanto per le reazioni allergiche, ma anche i defibrillatori, il bombole per l'ossigeno e quindi è tutto necessario e obbligatorio. È una delle prime cose che vengono a verificare quando si apre uno studio che ti richiedono e che l'ASL ti richiede per aprire un ambulatorio. Ah, ecco, ho capito. E per quanto riguarda invece l'anestesia, esiste sempre la differenza tra la rossa e la verde? Sì, esiste sempre, è la presenza o meno di adrenalina all'interno, quindi l'anestesia verde è un'anestesia che è chiamata così, infatti giustamente in gergo, un'anestesia senza vasocostrittore, senza adrenalina e invece la rossa prevede la presenza di adrenalina all'interno dell'anestetico. Ho capito, va bene, la ringrazio molto. Ci mancherebbe. Ringraziamo molto, ma qua ci sono dei professionisti. Assolutamente. Qual è la differenza, scusi, perché io mi sono perso. Quindi ci sono due tipi di anestesia. Più di due, in realtà, all'interno, però quelle che si usano più comunemente sono l'anestesia con o senza vasocostrittore. Ah, va bene. Allora, abbiamo una telefonata. Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, come si chiama? Sì, buongiorno. Io mi chiamo la signora Mirella. Mirella, da dove chiama Mirella? Chiamo da Veneria Reale. Da Veneria. Allora, faccio pure una domanda. E volevo sapere della dottorezza. Buongiorno. Io ho 72 anni, ma ho tutti i miei denti. Bene. Però, ho notato che andando avanti con le taxe una volta erano bianchi, adesso poco a poco stanno come ingrigendo e ingiallendo. Sì. Ah, prima di vedere, beh, giusto. Eh sì, è necessario fare. Come è la vostra? Assolutamente sì. Neanche all'incirca? No, mi spiace, perché è proprio un'informazione che non può stare le dire, le dire è una bugia e non... Sì, 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 che magari... Sarebbe infondata, quindi non si può aiutare. Va bene, va bene. La dottoressa dove riceve? Allora, se è interessata, signora, al termine della nostra trasmissione possiamo dare, se ci dare il consenso, allora le possiamo dare il numero della dottoressa in modo da poi contattarla, ovviamente al di fuori di questa trasmissione, quindi signora, se si ha la gentilezza di richiamare al termine del nostro appuntamento, che è tra circa una ventina di minuti, insomma, le sarà fornito il numero della dottoressa Carpegna. Noi proseguiamo, dottoressa, con un... eccola qua, un messaggio. Buongiorno, per una corretta pulizia dentale giornaliera può andar bene spazzolino elettrico e idropulsore? Grazie. Allora, buongiorno. Per l'igiene quotidiana, oltre allo spazzolino elettrico e idropulsore, vanno benissimo. Cosa fondamentale che a poche persone piace usare è il filo interdentale, in realtà, che è quello che aiuta, principalmente dopo lo spazzolino, a mantenere una bocca sana e pulita, l'importante è passare il filo interdentale sempre prima di spazzolare poi i denti. Prima i spazzolari, perché? Perché così si toglie qualcosina e poi poi lo spazzolino. E poi dopo con lo spazzolino si rimuove il resto, perché il filo interdentale va nei punti tra un dente e l'altro, quindi sposta eventuale presenza di placche e batteri e poi lo spazzolino porta via tutto. Dottoressa, si fa questo dire filo interdentale? Perché, insomma, bisogna anche istruire le persone nell'utilizzarlo. Allora, ci può dare qualche consiglio per tenere bello teso questo filo in modo che poi non si incastri o non facciamo danni magari alla gengiva sgrattando e girando? Generalmente sì, durante le manovre, poi durante gli appuntamenti di igiene dentale vengono sempre ricordate quelle che sono le giuste tecniche di pulizia. Quello che è importante sul filo interdentale è arrotolarlo sulle dita media e tenerlo tra pollice e indice ben teso, come vediamo nell'immagine. Farlo scendere lentamente, gentilmente, andando avanti e indietro tra i denti e poi successivamente si può tirare su dallo spazio interdentale per rimuoverlo. L'immagine lo spiega benissimo la posizione. Il movimento è un movimento di vai e vieni tra le superfici per spostare e rimuovere eventuale placca. Insomma, in teoria non dovrebbe essere... si fa su tutti i denti. Su tutti quanti denti, assolutamente sì. È una cosa lunga per quello, spesso non è mai amata quando uno lo ricorda i pazienti come attività. Ecco, invece il nostro telespettatore parlava di spazzolino elettrico e idropulsore. Sì, sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Funzionano bene entrambe o basta una delle due? Allora, l'idropulsore non sostituisce lo spazzolino, quindi la cosa importantissima è lo spazzolino sempre. Lo spazzolino elettrico ovviamente ha un aiuto in più rispetto a quello che è lo spazzolino manuale. L'idropulsore è un getto d'acqua che ha diverse pressioni che va a rimuovere quello che possono essere degli accumuli un pochettino più ingombranti. Generalmente viene indicato nei pazienti che portano protesi su impianti o che hanno dei ponti. Mentre lo spazzolino elettrico può essere utilizzato da tutti quanti i pazienti e ha un'efficacia approvata scientificamente, superiore rispetto allo spazzolino manuale. Anche se viene utilizzato dal miglior dentista del mondo che conosce come lavare i propri denti. Quindi ovviamente funziona molto bene. Ah, decisamente superiore allora l'efficacia diciamo. Sì, fino a sette volte. Questo perché? Perché ha dei movimenti particolari che magari noi non ci viene di fare? Prima di tutto perché comunque nel momento in cui noi andiamo a lavare i denti facciamo un solo movimento che è quello dalla gengiva verso il dente e per quanto possiamo dare una piccola vibrazione non raggiungiamo mai le 40.000 rotoscillazioni di uno spazzolino elettrico. E quindi ha un aiuto meccanico effettivamente superiore. E ne esistono di due tipi, che sia quello elettrico e quello sonico, rimuovono più placche e permettono una migliore pulizia. 011 0600 774 per le chiamate 348 80 42 54 per sms e whatsapp. Prima, forse c'è un messaggio, allora sto tergiversando per consentire insomma di entrare immediatamente con la domanda da porre alla dottoressa Carpegna. Eccola qua. Salve sono Irina. Vorrei sapere quant'è la vita del dente senza nervo morto frontale? Allora, quindi si parla probabilmente di un dente devitalizzato. In realtà un dente devitalizzato non ha una vita inferiore rispetto a un dente non devitalizzato. Se questo viene mantenuto esattamente come gli altri, vengono fatte le visite di controllo. Può andare, se è stato ricostruito in maniera corretta, il dente può, non è detto che si debba cariare obbligatoriamente, nel senso che ha la stessa possibilità di cariarsi come un dente sano e pertanto può essere mantenuto in bocca anche per tutta la vita, non ha una data di scadenza. Quindi quello che muore è il nervo? Il nervo all'interno, esattamente. Nel senso che quello che viene rimosso più che, quando viene devitalizzato il dente, si va a rimuovere il nervo all'interno della radice e lo spazio che occupava il nervo viene poi sostituito con dei materiali ovviamente inerti che mantengono quindi lo spazio e impediscono ai batteri di infiltrare e ricausare un'infezione. Quindi in linea di massima io potrei stare anche con dei denti devitalizzati, potrei fare la mia vita tranquillamente senza avvertire. Assolutamente. Allora abbiamo un messaggio, andiamo a leggere cosa ci scrivono. Buongiorno, sono Rosa di Alessandria, ho fatto l'attacco e sono uscite delle infiammazioni dentarie per capsule dentali. Cosa devo fare? Grazie. Allora, il messaggio è che probabilmente la signora aveva delle infezioni al fondo delle radici sotto dei ponti. Bisogna valutare in realtà la tipologia di infezione e valutare se è stata causata dalla frattura della radice oppure solo da una carie sotto il ponte. Nei casi, se la radice fosse fratturata purtroppo come dicevamo anche prima con l'altro telespettatore non è possibile, non sempre è possibile recuperarlo. Se invece si parla solo magari di una carie sotto un ponte si può andare a intervenire andando a curare la situazione del momento. Quindi curando quella che è la carie ed eventualmente rifare il ponte sopra al dente. Allora dottoressa, prima il nostro telespettatore parlava di due ganci, mi pare, su dei denti che mi pare che fossero forse consumati ma non del tutto rovinati. Quindi mi chiedevo, ecco, un caso di questo tipo cosa bisognerebbe fare? Cioè bisogna poi intervenire magari togliendo i denti e inserendole le due viti o si salva? La paziente prima in realtà diceva che le avevano proposto di salvare i suoi denti. È una tecnica che si fa solitamente sui canini che sono i denti più lunghi che abbiamo nella bocca che hanno la radice molto lunga. Se la radice effettivamente è sana e il dente quindi può essere mantenuto, viene inserito come se fosse proprio una piccola pallina sopra al dente. Il concetto maschio-femmina di aggancio, la protesi ha una parte maschile femminile che viene quindi attaccata come... Assolutamente si capisce sempre bene con l'esempio del bottone e con i pusuar, quindi il concetto è lo stesso e la protesi resta fissa perché è ancorata al dente. Allora, proviamo a prendere una telefonata? Sentiamo chi è in linea con noi. Pronto? Buongiorno, senta, volevo solo come ti sto vedendo la televisione, la tette per la dottoretta per i denti. Sì, siamo qua noi. Come si chiama signora? Sì, senta, siccome volevo sapere quanto, diciamo, ho fatto l'apparecchiatura, non l'apparecchiatura, la calamita sopra, potrei fare anche la calamita pure sotto, la mettere fuori i denti piccoli, se possiamo fare? Cosa intende con la calamita, signora, scusi? Signora? La calamita sarebbe che il piccato è già nell'osso, che con la ventina ci attacca, che la calamita non la mette dentro l'apparecchio, però il mio apparecchio è vecchio. Ok. E' solo questo, volevo solo sapere se la cosa che mi sto seguendo, se si può fare con l'apparecchio, fare le piste sotto e sopra. Grazie. Bisognerebbe, guardi signora, bisognerebbe un attimino vedere la situazione che ha e la vecchia protesi che ha. Se una persona ha degli impianti o dei vecchi ganci sui denti al quale è ancorata una protesi, si può generalmente reintervenire. Bisogna valutare però se gli impianti presenti sono ancora validi, sani, che marca sono e che le dimensioni che hanno, per avere tutte le informazioni per poter fare una nuova protesi da usare, ovviamente. Ecco, quindi, insomma, lo stato del vecchio impianto, diciamo. Assolutamente, anche perché comunque esistono tantissime dimensioni e marche di impianti, quindi ogni volta che bisogna affrontare un rifacimento su un impianto che non è stato messo da noi personalmente, è importante avere tutte le informazioni. Generalmente esiste proprio un passaporto vero e proprio per gli impianti, come succede per le protesi d'anca o per le protesi al seno. Ci sono delle informazioni, dei codici per ogni singolo impianto che viene inserito e questi codici vengono forniti ai pazienti in modo che si trovassero anche dall'altra parte del mondo, hanno le informazioni, avessero bisogno di un intervento su quello che è l'impianto che hanno. E quindi è necessario per avere la componentistica per utilizzare. Quindi io per assurdo, avessi un impianto con il, tra virgolette, passaporto, posso andare a qualsiasi parte, qualsiasi professionista sa di cosa stiamo parlando? Esatto. Quindi si può intervenire anche in altri ambiti, diciamo, magari uno che viaggia va via. Sì, esattamente, noi abbiamo dei pazienti che viaggiano tantissimo per lavoro e quindi è importante che dovesse mai capitare una qualsiasi urgenza, ma ci capita a volte, spesso in realtà, purtroppo che arrivino pazienti anche a volte che non hanno queste informazioni e su cui bisogna reintervenire e poi lì l'unica soluzione in realtà è togliere l'impianto e metterne uno nuovo perché se non hai le informazioni non hai la strumentistica da poter utilizzare per aiutarlo. Ecco, in linea di massima la compatibilità tra impianti vecchi e nuovi è rimasta? Ogni impianto ha la sua componentistica, ma anche tra quelli adesso all'interno della stessa marca esistono diversi modelli di impianti e ogni modello ha la sua componentistica. Ci sarà qui da perdersi con tutte le cose. Come ogni cosa, assolutamente. Va bene. Quindi immagino che in uno studio arrivino, che so, i rappresentanti di queste varie marche e presentano ogni nuova cosa che... Sì, ogni nuovo prodotto, sì. Va bene. Allora, 011-06-00774 per le chiamate 348-8042-540... Sì, qua ci sono anche degli impianti, nell'immagine anche impianti molto datati che si usavano un po' una volta, assolutamente. Tra questi ci sono anche i datati? Sì, per esempio, nella riga in basso, il quinto, che erano dei sottoperiostei, sì, con quelli che si usavano una volta degli impianti molto piatti che si mettevano sottoperiostei e non si usano più. Ecco, qua abbiamo tante forme, tante... Ecco, ce n'è uno particolarmente prediletto o ognuno di questi magari va a, che ne so, per un canino una vite piuttosto che l'altra? Sì, è più su una situazione di spazio che c'è all'interno dell'osso e qualità dell'osso. Le forme poi sono cilindriche o coniche e i diversi colori che si vedevano è il tipo di preparazione che viene fatta sulla superficie, che quindi se è la rugosità che viene data per favorire l'integrazione all'interno dell'osso. Ecco, perché giustamente immagino che a seconda dell'osso di cui dispone una persona si può pensare a un intervento piuttosto che un altro? Ma si può sempre mettere comunque un impianto, bisogna solo valutare eventualmente se prima di metterlo in pianto sia da aggiungere eventualmente osso laddove non ce ne sia, però tendenzialmente se ne si può sempre poi posizionare, cambiano solo i tempi di attesa, se l'osso è già presente si può intervenire subito con l'impianto, se l'osso invece non è presente bisognerà aspettare 4-6 mesi che il nuovo osso attecchisca e sia poi disponibile. Quindi insomma c'è un range di tempi. Ci sono dei tempi biologici proprio. Ah, biologici. Va bene, allora mi fanno accenno che siamo al termine del nostro appuntamento, allora io ringrazio per essere stata in studio qui con noi l'odontoiatra, la dottoressa Giorgia Carpegna. Grazie a voi. Do la linea alla regia ricordandovi la quotidianità dei nostri appuntamenti, dunque ci vediamo anche domani sempre alla stessa ora. Lina alla regia. Arrivederci presto.